Il delegato del Ciuffer, Forlì, con un ponte per la Calabria e Oristeo Ceraolo, ha incontrato Susanna Camusso, segretaria nazionale della CGL, nell'ambito dell'iniziativa Nord e Sud insieme per il lavoro, equità e la dignità. La ferrovia pubblica in Calabria non aveva mai vissuto un periodo triste come questo che stanno attraversando i cittadini della costa ionica calabrese. Il disagio cresce soprattutto fra i lavoratori e studenti della zona, anche per i treni diretti dalla Calabria verso l'Emilia Romagna e la Lombardia. Il delegato del Ciuffer, Comitato Italiano Utenti Ferrovie Regionali, ha ritenuto opportuno di dover denunciare al segretario della CGL la gravissima situazione in cui vivono tutti i giorni i pendolari del versante ionico Calabro per il disagio dovuto alla soppressione dei treni a lunga e media percorrenza. In questo incontro occasionale anche la Camusso ha trovato interessante e doverosa l'iniziativa in cui l'ha vista coinvolta con lo slogan. Susanna pendolare. Ridatemi il treno.